Un saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignor. A Firenze un incidente in via Bolognese, angolo via del Poggiolino, sta generando rallentamenti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!